Va beeeeeeeene Che ho guadagnato? Nessuno lo controlla? Non mi dire Non mi dire Cioè nessuno l'ha visto che tipo usciva, vabbè va Cosa posso dire Mr. Wagner? È davvero una serie sfortunata di eventi Ahah, sì 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 Gene è il mio campagna Eh sì, un famiglio di amico Vabbè poi leggiamo dopo So che questo deve essere un tempo Cioè è un momento difficile per te Andrò a parlare al... Eh? Avevo la sensazione che c'era qualcosa di strano In quella casa Non potevo ancora mettere i pezzi insieme Quindi mi sono ritirato per un po' Dopo qualche settimana La chiamata è arrivata Quando le cose sembravano tornate alla normalità C'è stato un altro incidente che in quella casa dimenticata da Dio È successo in un giorno piovoso Pensavo fosse Tuesday Martedì Vabbè siamo noi Adesso finalmente possiamo leggere cosa succede Indipendentemente dal fatto che ci sta visitando Satana Dai Ciao Satana Ciao Lucius Sì, zitto un attimo ora Un attimo Sì sì Oh che palle Sì sì Sto facendo bene Grazie Sì sì Eh sì Ti faccio fiero Sì sì Da che anni Ok Sarò perso Senza di lui Puoi Intanto questo qui Lucifero Sta tipo dicendo Che posso esercitarmi Con la mente No Non mi far vedere ora Ma non posso mettere tipo P Vabbè Se Punta il cursore su una Ma lo so già fare Se no come lo facevo alla missione E tra l'altro dov'è la Toycar Ah Excellent Che interessante Comunque siamo solo io e te E c'è posto per due Su quella poltrona Allora Possiamo Sì sì Now Ok Entrambi i bottoni Eh Che cazzo faccio Che cambia Perché ho una Perché ho una scatola Che cosa ho fatto Perché ho una scatola Tipo da cui non posso riuscire Ah Ma la risucchio Che faccio Tipo Ma che problema Ha Ah forse la spingo via Tipo Con entrambi Eh dai La difficoltà estremo Proprio Ah Lasciala andare Perché non la lascia andare Lasciala andare Dove è finita Ah Ok Ma se non posso uscire Dalla scatola Come dovrei fare Cioè Non ci credo Veramente Ci sto provando Da mezz'ora Ormai Ah Stupida macchinina Oddio Ok 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 Ma l'avevo fatto Ok Ok Dobbiamo distruggere La La tazza di caffè Ma che ho fatto Ma stai fermo Ok Posso anche far partire la macchina Con la mia telecinesi Vai Ok Ora sei Tutto quello che c'è da sapere Dove Devi continuare con la tua missione E portare più anime Stai attento Ma non mostrare pietà Sì zitto Ah ok Era volontario quindi stare dentro la scatola Ma vaffanculo Agosto Quattro Mila e novecentosettantatue Morte sola C'eravamo lasciati con un bel vaffanculo Altizio Un momento Ma che faccio di diverso Cioè Scusate Io ancora non ho capito cosa faccio Ma che faccio di diverso Perché è sparita tra l'altro ora Cioè L'ho polverizzata Che ho fatto Faccio la polverizza Tipo Ok La baggo Semplicemente Quello che faccio Baggo Ma che cazzo Ma come sei finita qua sotto Vabbè va Nemmeno voglio sapere Piuttosto Vai Spegniamo Andiamo Dunque Facciamo una cosa figa Bello che non posso accendere la La cosa La La televisione Con la telecinese Cos'è sta sta musichetta Qua non c'è niente Qua si scende Qua C'è della roba Aiuto No La bioggia no Ho bisogno della luce Basta Anche basta Oddio no Vabbè va A sto punto Aspetta però Penso che ci finiscono In batteria Non vorrei E basta Oh ma qua c'è un'altra stanza Ah no Ok Che dobbiamo fare? Scendere di sotto Andarcelo Ah Re Oh Eh qui sei Sì sì Ho dormito bene Ma vaffanculo Mortacci tuo Quanto mai M'hai inquietato Ci sono Fantasmi? No Ancora no Un vero peccato Apriamo qui Apri No nemmeno qua C'è un po' puzza di morta Però niente Rompiamo Ok Passiamo il tempo A rompere la tazzina No Come la rompo quindi La tiro Va 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 Che potenza E' addirittura E' addirittura sparita Proprio dallo schermo Quella là Da quanto l'ho tirata forte Ops No Ehm Sì Grazie Con la telecinese C'è niente Tipo qua Che posso fare? No Un peccato Un vero peccato Qui la croce Oddio L'hanno rimessa a posto Sì 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 Sigaretta Sì Vabbè Ma basta Un pianoforte Oh Possiamo aprire qui Vai Apri tutto Ma che cazzo Oh E' l'handyman Cioè quello là Che fa tipo Tutto in casa Che dobbiamo fare Dobbiamo stuprare Che dobbiamo fare Ok Due chiavi inglesi Una matita Tre chiavi inglesi No Ok Il taccuino Ah E' vero Quello là Ok 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 Ho capito Chi ha Ivor Ok Così Ok Fix De piano Sì 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 Aggiunto Poi Muoviti Lavora Schiavo Tieni Vuoi questa Sistemare Il piano Ma che cazzo Ok Mi dovrò sbrigare Bravo Bravo Vai a sbrigarti Ma non hai Ma non hai finito Di sistemare qua Veramente Però Vabbè D'altronde Sei un povero Ubriaco Eh Mio caro Povero Ubriaco Potessi essere Ingenuo Come te Ma che c'è Ma che c'è Ma che c'è di là Comunque Cioè che non ci sono Emmeno andate Niente Il nulla Quindi L'hai messo a posto Il piano Schiavo Non c'è niente Di strano No Sei sicuro Ok Allora devo andare A prendere qualcosa In bagno Prima che torni lui Dai 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 Aspetta No 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 Che dovrò fare Che devo 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 fare Perché no Che devo fare Ok Questo è quello che dice Oh no Ho cancellato il Cosa Aspetta Ok Intanto Ok Quello che dice Ci sia qualcosa di strano Ma meglio andare A ricontrollare No No Ok Ho rubato un branch C'è una chiave inglese Forse dovrei romperci qualcosa Tipo Cioè in realtà ne hai rubate tre Ma che dovresti romperci Ah ok Non è questa Non è questa Ok Aspetta Lo so Ho capito Io Sì No 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 Chiudi Oh cazzo Mi ha scoperto Ma che cazzo È così il game over Ma no 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 Mi ha scoperto Cioè sono riuscito a morire In un gioco In cui non si può morire Vabbè Il nostro piano malvagio C'era niente qui No vero No Non c'era niente Lo dico io a me stesso Anche perché abbiamo tutto qua dentro vero Sì A parte le cose Allora Ah intanto giriamo il crocifisso Che è ancora lì Ok Ivor Ok L'inserviente Andiamo dall'inserviente A rompere i coglioni Sì ok Vabbè Vabbè Sì 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 Una matita La chiave inglese Un'altra chiave inglese Un'altra chiave inglese Andiamo A sistemare Il pianoforte Allora 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 Quella da mezzo Ottimo Oh No Ma come ha fatto C'è stavo tipo distruggendo il pianoforte A A chiavate Stavo inchiavando il pianoforte Che palle Bambino di merda Questa me la paghi Dai No Dov'era? Ma dov'era? Ah ok Oh ciao 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 There you are Sì sì Ho dormito benissimo Grazie Stai qua su per favore Non rompere i coglioni Sì 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 Ciao Chiudi questa cazzo di porta Grazie Corri Corri bambino Corri 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 come Satana sa fare Corri Partita E andiamo qua dentro Ce ne sono? Ok Ok Quella da mezzo Siamo calmi No 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 Cioè adesso dovevi uscire da lì dietro Adesso Adesso Madonna 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 Cioè potevi uscire in qualunque altro momento No Adesso Oddio Dov'è questa stronza? Dov'è? Ok Poi Poi Oddio Ogni volta Ogni volta Ma perché poi devi ucciderlo? Qual è il tuo problema? Ah forse perché puoi scoprire che tipo l'abbiamo a mano messo? Impossibile Sì Seleziona la chiave da mezzo Così che tipo ce l'abbiamo pronta Nascondila Nascondila Ok Qui ha chiuso Ciao Ciao Sì sì Ho dormito benissimo Grazie Simpatica Sei gentile a chiedermelo Ah signore Bene Al tempo andiamo qua dentro Mi spieghi che devi fare qua dentro a rompere i coglioni Intanto spegniamo le luci Fai come se non ci fossi Ok Apri la porta Vai di là Sì Vai ma non metti Mattino Ok Stiamo Allentando i bulloni Tipo i pedali Dobbiamo allentarli ancora? No Ok E andiamo a scrivere Ma dove va? Ah Io non ho fatto niente ovviamente Figuriamoci Oddio Ha un po' battuto Sì È la lista di cose da fare Fix de pieno Già 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 E lui non mi vede tra l'altro Mentre lo scrivo Metto le mani addosso Dai su vai a mettere le Ste cose va Muovete Sì Si fix de pieno Sì Vai Zitto E vai 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 Servo un aiuto Vai 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 Più veloce Non vedo correre di entusiasmo Verso il piano Per rimetterlo a posto Per ripararlo Forza Forza ti apro la porta Vai Dovi aprire l'altro Ovviamente Spero tu muoia nel modo peggiore possibile Me lo guardo in diretta I pedali È sempre Sì sì Già 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 C'è sempre qualcosa Ma chi è che ha rimesso a posto questo crocifisso Dunque 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 Che dovremmo fare? Cosa facciamo Cosa facciamo No Dai Non gli puoi togliere la zampa Per far Ma sta scherzando Ma che cosa orribile Ma no Ma che schifo Tra l'altro gli è rimasta la bocca Ma no E lui ovviamente è lì Mentre è successo questo Era lì Ma io non lo so Odio doverglielo dire mister Wagner Ma sembra che il suo Vabbè tuttofare Era ubriaco come non so cosa Volevo licenziare dopo quegli altri incidenti Ma non avevo cuore È difficile Tenere lo staff Quando incidenti del genere Succedono Non puoi Non può Incolparsi Vabbè Il resto non lo so Cioè Lo leggiamo dopo Sinceramente Mi annoia anche Starli via L'autopsia sulla cameriera è stata inconclusiva Ma stiamo ancora lavorando sulla teoria che ha avuto Un mancamento, un attacco di cuore, qualcos'altro 11 settembre 1972 Sul filo del rasoio? Cutting edge Cioè, è tipo L'ivite Che taglia, ma Allora, vediamo che diceva, eh Allora Con gli eventi recenti, comunque, non con gli incidenti del genere Allora, non puoi, non può darsi la colpa Questo potrebbe essere il peggior caso di negligenza professionale Con cui mi sono confrontato Questo potrebbe spiegare Ah, mentre questo potrebbe spiegare la fuga di gas Ancora non spiega la morte nel raffrigeratore L'autopsia sulla cameriera è stata inconclusiva Ma stiamo ancora lavorando sulla teoria che lei ha avuto un attacco di cuore O problemi di circolazione ed è svenuta Quindi Ok, ok, no Ok, dovrei metterlo Cioè, dovrei portarlo qui in qualche modo Ora posso usare una delle mie nuove abilità Ma perché non usi l'abilità di volare? Vai, lanciati Lanciati No, eh No O di strozzarti con una palla Ma perché non usi l'abilità di volare? No